Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, inizio col dire che sono iniziati nuovamente dei lavori del taglio strada per la fibra ottica, anche in questo caso come è avvenuto negli anni passati, quando ci saranno le riparazioni della fibra ottica, la piccola trincea viene chiusa col cemento in maniera provvisoria, per poi passare come è stato fatto in molte vie del nostro paese, al completamento dei lavori con la riesfaltatura dell'area tagliata. Faccio presente che abbiamo fatto nuovamente pressione all'azienda che deve completare le riesfaltature della fibra ottica dove non era stata completata, esempio via Gorizia, via 25 Aprile, via Adige, quindi ci aspettiamo che comunque nel prossimo mese anche queste aree vengano completate. E distribuzione ci fa presente che nella giornata del 27 settembre 2024, dalle ore 9 alle ore 16, verrà tolta l'energia elettrica in alcune vie del nostro paese, via Zara, via De Gasperi, via Monti, via Marconi, via Porta, via Madonna della Selva, via Mercadante, via Pascoli, via Don Bernasconi, via Legnano, via Roma. L'arco temporale è dalle 9 del mattino alle 16 del pomeriggio. Gli eventi del fine settimana, una mostra di pittura nella Sala del Camino del Castello Visconteo, Raimondo Colantonio, il mare dentro. La mostra apre il sabato 21 e si concluderà domenica 29. La mostra potrà essere visitata nel weekend, quindi sabato e domenica, nella mattina e nel pomeriggio di domenica. Questo è il catalogo della mostra, invito tutti a visitarla, non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!